Buon pomeriggio, allora pollicione, se volete iscrivervi vi ringrazio, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono e commentano il mio materiale. Cosa che mi ha dato fastidio, ma prima parliamo delle manifestazioni. Il 29 c'è il numero di telefono da chiamare per avere informazioni sugli orari, mentre quella di Roma so che comincerà alle 9, quella di Palermo non ho l'orario, quindi l'unica è chiamare il numero che si vede nella miniatura in basso per chiedere esattamente a che ora comincia. Comunque c'è indicata la zona da cui si parte, mi raccomando, decisi, corretti, tanti, bisogna essere in tanti, e determinati. Bisogna dare un segnale che dietro questo disagio, c'è una vera forza politica, una forza in grado di spostare i voti, perché l'unica cosa che interessa a quella gente sono i voti. Di quello che succede a voi non gliene è mai fregato niente, a prescindere dal governo. Questo poi diciamo che ci sta dando giù con la mazza da fabbro, però bisogna dare un segnale, bisogna dare un segnale anche alle forze politiche che vogliono aggregarsi e sostenere e difendere questa misura. Un segnale che c'è una realtà che non dipende dalle loro bandiere, ma dipende dal popolo, che dovrebbe essere il primo e unico referente in questo senso. Le bandiere, se ci sono, va bene, basta che non ci siano bandiere strane, lo dico, consiglio sia per Palermo che per Romo per qualsiasi altra manifestazione. Cercate di tenere lontani i casinisti, i casinisti in questo caso potrebbero essere solo i centri sociali, non vengono lì per sostenere le vostre posizioni, vengono lì solo per fare casino. E magari portano bandiere che c'entrano zero con la vostra lotta, semplicemente perché loro devono farsi vedere. E sono quelli che magari fanno diventare una manifestazione pacifica un casino. E ci andate sempre di mezzo voi perché passate voi poi per casinisti. Se vogliono venire i partiti, vengono. Io spero, mi auguro assolutamente, che sia presente il Movimento 5 Stelle di Conte. Ma se vuole anche aggregarsi il PD, chi se ne frega, anche se il PD fino a un giorno fa se ne sbatteva le balle. Chi se ne frega, più si è meglio è. Anche Landini, adesso anche Landini si è svegliato. E meno male che si è svegliato. Però bisognava svegliarsi prima. Ma bisogna dare proprio un segno chiaro che c'è una forza che non è inquadrabile, ma che vuole far valere un suo diritto. Il diritto a un'esistenza dignitosa. Cerco di essere veloce sulle cose che mi hanno fatto incazzare. Ieri ho visto un video sull'intervento di Bersani. Sotto i commenti erano variegati, dai difensori ai detrattori, ma due mi hanno colpito in particolare perché non erano commenti. Uno definiva i percettori degli idioti e l'altro dei fancazzisti. Io non cancello i commenti nel mio canale. A volte lo fa la piattaforma e io poi devo cercare di capire perché, scrivendo anche la piattaforma. Ma consiglio a questi due, magari consiglio anche a quello che ha lanciato il sasso, che porca miseria, io non sono di lingua madre italiana, ma così non scrivevo neanche quando incominciavo a parlare la vostra lingua. Quindi magari prima vai tu a scuola, ma comincia dalle astine e poi magari cerca di argomentare. I due che si sono semplicemente limitati a insultare, ecco, quelli lì sono i tipi di commenti che a me fanno discretamente schifo. Perché se non hai modo di argomentare le tue obiezioni, state zitto, quelli lì sono argomenti, sono modi di pensi che vanno bene nei bar, non quando si fa un ragionamento serio. Se non sei capace di fare un ragionamento serio, vai al bar, vai in curva, vai a fare quel cacchio che ne hai voglia, ma non mischiarti con la gente che cerca di ragionare, perché dai soltanto fastidio. E la tua opinione è irrilevante, tanto quanto è irrilevante il pianeta Terra rispetto all'immensità dell'universo, per farti capire la scala. Però mi è capitato di vedere anche un video del professor Giannulli, che io rispetto, che però già di base dice che lui è ideologicamente contrario all'RDC. E complimenti perché sei di sinistra, no? Siamo sempre qua, quelli di sinistra che sono contrari alle misure che aiutano i poveri. e poi dice che c'erano comunque, sono sempre esistite misure di sostegno in Italia. Ma professore, ma lei dove ha vissuto negli ultimi anni? Perché se mi dice che la Naspi è una misura di sostegno, allora non conosci i meccanismi della Naspi, tanto perché cita quella. Dove le ha viste tutte queste misure di sostegno per i poveri in Italia? Dove le contento che hanno rieletto il corrotto, la Lula? I braziani sono passati, per così dire, da un pazzo furioso a uno che comunque pulito non è. Trovare un candidato che non puzzi di dircioli facevano fatica. Vabbè, se quella è la sua idea di vita, io preferrei che in Italia non ci fossero le favelas. E già certi quartieri degradati nelle grandi città non sono messi bene. Non è vero che ci sono sempre state misure di sostegno, non è assolutamente vero. È vero, come giustamente dice lui, che la responsabilità di questa situazione è il turboliberismo, il neoliberismo sfrenato, quello che in Italia è stato sostenuto da calenda in tutti i modi possibili e che è stato sostenuto anche dallo stesso PD. Dallo stesso PD veltroniano era sostenuto il liberismo. E il liberismo è contrario assolutamente ai diritti dei lavoratori, perché non si basa sulla piena occupazione, ma sullo sfruttamento selvaggio, sulla delocalizzazione e quindi sull'abbassamento il più possibile dei costi del lavoro, a costo di farla pagare ai lavoratori stessi. Però, mi scusi, professore, no, non è vero che ci sono sempre state misure di sostegno. Ed essere contrari a questa norma, per quanto, ribadisco, sia stata scritta con i piedi, perché è stata scritta con i piedi, non le fa onore, tutto qui. Non le fa onore perché io comunque sono a favore di una misura che non mi tocca, di cui non mi tange, ma di cui riconosco la necessità. Ed è questo il punto importante. Poi, vorrei anche spendere due parole sulla patetica dichiarazione fatta dal ministro Val di Tara, in merito alle persone con bassa scolarizzazione, andando a citare l'utilità dell'umiliazione. Allora, già tu nel nome hai qualcosa che non va, la Tara tu ce l'hai veramente, ma nella scatola cranica. Ma lei sa che cosa insegnare? Sa cosa vuol dire insegnare? Uno dei fondamenti dell'insegnamento di chi vuole insegnare veramente è che non si lascia mai indietro nessuno. Se un ragazzo è in difficoltà, il primo dovere di un bravo insegnante, a prescindere dalla scala dell'insegnamento, quindi partendo dall'elementare e arrivando fino all'università, è aiutare quel ragazzo. Quello è il primo obiettivo. Perché una cosa che ho detto tante volte, io sono molto più portato a dare una B, l'equivalente del vostro 7, 8 adesso, a un ragazzo che non ha i mezzi conoscitivi, economici, quello che volete, non ha i mezzi, ma si fa un mazzo tanto per arrivare a quel voto, rispetto a uno che ha i mezzi e semplicemente fa il compitino. Cioè, se tu puoi andare, se tu sei un razzo e ti muovi come una lumaca, mi dà fastidio, mi incazzo, rispetto a uno che è una lumaca ma vedi che ce la mette tutto per correre. Perché uno dà il massimo e l'altro no. E si impremia anche lo sforzo e la volontà. Ecco, dire queste cose è vergognoso. Definire le persone che non hanno potuto studiare facendo di una gran massa, un unicum, è allucinante. Quanti di queste persone non hanno potuto studiare perché vengono da realtà estremamente disagiate, che li hanno costretti a mollare gli studi per lavorare. E di tutto questo niente, di tutto questo ci si deve passare su, deve andare tranquillamente in camera caritatis. Prima di parlare bisogna conoscere le realtà, le realtà fanno la differenza. E se un ragazzo non ha potuto completare gli studi, la prima persona che deve farsi un esame di coscienza non è neanche la famiglia, è lo Stato. Perché se un ragazzo non può studiare, la prima responsabilità è dello Stato. Ed è lo Stato che prende in giro gli stessi studenti, che non aiuta le famiglie con i costi dello studio, che vi costringe tutti gli anni a cambiare libri in cui spesso si cambia solo la copertina, ma tutti gli anni dovete cambiare e spenderci sempre soldi. Ecco, lì, la mancanza è dello Stato. Quindi, visto che lei è il ministro dell'istruzione, ma non mi siamo molto istruiti, comincia a fare il suo lavoro, cambi questi parametri. Poi potrà parlare di scolarizzazione, ma anche su chi l'ha difesa, tale Osnato. Ecco, a fronte della domanda della conduttrice, domanda onestissima, se queste persone devono andare a studiare, come vivono intanto che vanno a studiare? Parliamo di persone over 25, eh? E sentite la risposta di Osnato. Beh, se hanno la fortuna di trovare un lavoro e intanto studiano, possiamo pensare, quindi di fisico c'è niente, a una qualche forma di aiuto. Allora, prima dici che non sono scolarizzati, quindi non essendo scolarizzati hanno dei problemi a inserirsi nel tessuto sociale e anche nel tessuto lavorativo. Prima dici questo. Poi però dici che si hanno fortuna nel trovare un lavoro, quindi ammetti implicitamente che tutto sto lavoro di cui parla la Meloni e di cui blatterano i suoi difensori, come è venuto in un commento, nel commento del paro analfabeta amante dei fasti romani, un altro di quelli che secondo loro il lavoro cade dal cielo, lo ammetti anche tu che tutta sta roba non c'è, ok? E poi in qualche modo lo aiuteremo. Anche qui io vorrei spiegarlo sia a Rosnato che a Valditara. Se si prende un ragazzo che ha finito la quinta elementare a dieci anni e lo si riporta a studiare a venticinque, bisogna ripartire quasi da zero, quasi da zero. Non si possono fare tre, quattro anni in un colpo solo, perché devi ricostruirlo dalle basi, perché quello è il mio lavoro, non il vostro, grandissimi scalda sedia a 15 mila euro al mese. Quello è il mio lavoro e lo so come si fa, perché per me insegnare è una cosa bellissima, una comporta grandi responsabilità e se trovi qualcuno che è svantaggiato in questo senso, tu sai che devi letteralmente riplasmarlo, perché molte cognizioni le ha dimenticate e devi ridargliele. Per portare un ragazzo di 25 anni, brutto lì un'età a caso, dalla quinta elementare al diploma, tu devi fargli fare anno e anno, non puoi fargli fare le ammucchiate tre anni in uno, perché non funziona così e non gli darà istruzione così. Queste sarebbero le basi del vero insegnamento. E pensare che c'è un tizio che ragiona così, in un dicastero così importante, negli altri paesi, in Italia non conta una fava, è imbarazzante. Questo qui sarebbe il governo di alto profilo. Ma voglio chiudere con due cose. Il video in questione in merito a Val d'Italia lo trovate sul canale dei sostenitori di Giuseppe Conte. Nello stesso video vanno a intervistare alcuni rappresentanti di un circolo PD locale. Già partiamo con la prima rappresentante, questa signora, che dice che lei è contrarissima al rento di cittadinanza. Ecco, io spero che questa signora poi magari, quando è nei salotti con le sue amichette, a non fare una fava, perché magari è pure mantenuta dal marito o è mantenuta dal partito, per citare la grande bellezza. Quando in quei momenti lì non vado a citare gente come Gramsci, non citi Gramsci, non citi Amendola, non citi Turati, non citi quella gente, non citi Bossetti, non citi Matteotti, non li citi ma neanche per sbaglio, perché lei con il comunismo, con la sinistra, con il socialismo, ha zero da spartire. Ve l'ho detto, la misura è scritta male, su questo non si discute, ma è comunque qualcosa rispetto al vuoto che c'era prima. E una persona di sinistra, convintamente di sinistra, è questo che dovrebbe vedere. Una che ragiona così, lì non ci dovrebbe stare, ma siamo sempre al discorso vecchio. Quando Veltroni ha creato il PD, ha fatto entrare cani e porci, ma tutta gente con la puzza sotto il naso. Una critica che stanno facendo a Bersani è che adesso difende l'RDC. Magari lo fa per opportunismo, ma non so quanto, visto che non si candida più. Magari, come tutte le persone, può aver cambiato idea e aver cominciato a ragionare anche lui. Prima non gli piaceva, adesso ha capito la situazione, che è una cosa positiva, perché guardate che soltanto gli imbecilli e i muri non cambiano mai idea. Ecco. Però, porca miseria, ha ragione Bersani, in questo caso crozza Bersani, dire che se tu metti le salopette a quelli che fanno le sfilate ad Ermani, non è che diventa una fabbrica. L'atelier non diventa una fabbrica. Quindi, questa signora fuori. E un altro che, giuro, non sapevo se ridere o aver pietà. La vera forza organica di opposizione, per la sua storia, per la sua rappresentanza, per le sue figure, è il PD. Io, questo signore, carità, prima, per non essere cattivo, gli consiglierei, mia moglie, molto disponibile a fare una visita neurologica, perché si tratta di capire se lei, nella scatola cranica, ha le formiche o ha i neuroni, perché fa grande differenza. Ma mia moglie, guarda, gliela fa gratis, perché, come so dire, quando trovi un caso così particolare, poi magari ci fai un articolo. Oppure, lei veramente, ma quando mai il PD, il PD ha una storia? Il PD non ha una storia. Il Partito Comunista fondato a Livorno ha una storia. Il PD, la sua storia, la comincia con Veltroni. E se mi viene a dire che quella è una storia di cui essere fieri, veramente sei fiero della merda. E tanto per essere ancora più chiari, chi attualmente guida il PD non ha niente da spartire con la sinistra, ma ha molto da spartire con le multinazionali e col potere economico. Quindi, anche qua, collega il cervello, quando dire certe scimense. E mi è piaciuto invece un ragazzo che ha detto una cosa molto intelligente. Il fatto che Letta stia cercando di organizzare una manifestazione precedente, che anticipi quella di Conte, gli dà un po' l'idea dell'opportunismo. Cioè, non la fa per convinzione, ma la fa per far vedere che fanno qualcosa. Questo qui, secondo me, è un'ottima analisi delle cose. Letta non lo fa perché crede che vada difeso l'RDC. No, lo fa per far vedere che lui qualcosa riesce a fare. Certo, se poi fa le figure da cioccolataio dei due siti, infatti, poco tempo fa, che ve l'ho detto, il Corsair, che è sempre stato un leccapiedi, in questo senso, gliele ha messi a pagina 37. Più indietro cosa c'era? Il meteo? E chiudo con una nota comica, ma neanche tanto, perché non riguarda voi direttamente, cari amici, ma riguarda l'Europa. Io, un video di qualche giorno fa, cosa vi ho detto? L'Europa deve piantare di pensare di essere ancora al centro del mondo, perché non conta più un cazzo da una vita. Borrell, che vuole mandare Di Maio, ecco, c'è già qualche risposta da alcuni paesi medio orientali. Potete leggere l'articolo sul Fatto Quotidiano, non è una cosa che mi invento io. C'è l'articolo sul Fatto Quotidiano. Ma stiamo scherzando? Ma ci prendete per il culo? La risposta è quella, eh. Cioè, ci mandate qua uno scappato di casa? Ma chi cazzo vi credete di essere? Perché poi, quello che siete lo si sta vedendo adesso ai mondiali. Finché vi ha fatto comodo a quel paese, avete venduto la qualunque. Gli avete permesso di fare quel cazzo che voleva. Lo avete difeso, tanto per dire quello che il Paris Saint Germain ha sempre fatto i cazzi suoi, violando tranquillamente le regole, ma non gli avete mai detto un cazzo. Infantino ha fatto una conferenza stampa che io mi sarei vergognato anche solo di essere presente. Giuro fosse stato presente e mi sarei alzato e gli avrei sputato in faccia. Perché non si è mai visto un uomo buttare la dignità nel cesso, come ha fatto Infantino in quel momento, a giustificare certe cose. E adesso improvvisamente scoprite che là i diritti civili non sanno come si scrivono. Dai. Prima ci andate a mangiare nello stesso troguolo e adesso improvvisamente volete darvi un tono di purezza. E questo è un discorso in generale, perché riguarda Mancini, che dice lì, diritti civili. Mancini, prima ti sei lamentato perché l'Italia non c'è e ci doveva essere per diritto divino. Comincia a vincere le partite contro la Macedonia, tanto per essere chiari. E poi adesso parli di diritti civili. Io scommetto che se ti qualificavi, tu andavi là tranquillamente e te ne dimenticavi di diritti civili. Quindi evita di ammantarti adesso perché la dignità devi averla sempre e non a scartamento di comodo. Però passatemi veramente. Lo dico agli amici juventini, non offendetevi. Sapete che adesso la procura Francesca sta indagando su Sarkozy, quella è roba nostra, ma come diceva mamma, noi siamo il popolo eletto, siamo i migliori in tutto anche a partorire stronzi e i platini per l'assegnazione dei mondiali. Che ci sia stato sotto qualcosa, diciamo, roba che buste abbondanti, mettiamola così. C'è un canale di juventini, per carità, bravissime persone che si auspicavano di avere il platini presidente al posto di Agnelli. Ragazzi poi però non dite se vi chiamano la Rubentus, non offendetevi perché ve le andate a cercare voi. Cioè chiedere di importare lì una persona già condannata per corruzione, adesso sotto inchiesta per corruzione, a presiedere la squadra più titolata d'Italia, scusatemi eh, è come essere rettafarsi e darsi le martellate invece che con la bottiglia di plastica, con la mazza del fabbro. Ciao a tutti!